Per la terza volta dall'inizio della crisi si arriva a sfiorare quota a un miliardo nel conteggio delle ore di cassa integrazione. Arrivati all'ultimo scorcio del 2013, il bilancio sulla richiesta di ore di CIG si fa sempre più pesante. Nel giro degli ultimi 11 mesi sono stati collocati in cassa a zero ore circa 520.000 lavoratori, con un taglio del reddito per 3,8 miliardi di euro, vale a dire 7.300 euro in meno per ogni singolo lavoratore. Questa è la fotografia della crisi di impresa e occupazione in Italia scattata nel rapporto di novembre dell'osservatorio CIG, della CGL nazionale, in cui sono stati elaborati i dati rilevati dall'Inps. Da gennaio a novembre sono state richieste e autorizzate poco meno di 990 milioni di ore di cassa integrazione. Ad un passo dal miliardo di ore di CIG, dopo l'anno record del 2010, quando si raggiunsero oltre 1,2 miliardi di ore, e 2012, che ne totalizzò invece 1,1 miliardi. Nel solo mese di novembre, mette in evidenza il rapporto, le ore di CIG autorizzate sono aumentate del 21,34%, a 110 milioni 47.398 sul mese precedente.